passiamo l'altra parte però passiamoci dicevo io qua però andiamo a sotto ci sei da sotto ah qua 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 e allora vedi? dobbiamo passare da qua all'altra parte quindi appena passa il coso e poi il set non viene allora dobbiamo fare veloce appena c'è il coso e lo prendiamo prendiamo e passiamo dall'altra parte se c'è questa cassa non ci porta a disturbo ecco siamo morti 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 cioè ti dicevo io con la cassa portale disturbo questa parte non si può andare più nella sua parte se ti è passato dall'altra parte pronto pronto ok toglierti allora dai una salvata si salva salva gioco salva gioco ok ok ci abbiamo fatto ci abbiamo maledetto a sorpresa ma muori 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 eh si pure io lo individuate è individuato delle lacerazioni faccio un morto energia ripriminata rincipazione ma ci sono vediamo tanto qua sto male sto male sto male perché un teschio un teschio un osso ah c'è un'altra schifezza di quelle cose ah ce n'è un'altra ossa c'è una scala voglio andare a controllare quella parte ah si però vedi una trappolina da start aspetta ci riesco ok energia ripristinata ok 30% c'è qualcosa ok andiamo di la prendiamo la scala la scala che non porta da nessuna parte ok non si va di la aspetta ah ah aspetta posso capire qua si va sali 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 sepe su sali 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 sepe su abbassiamoci da quella parte non si va a qua a qua a qua a qua cosa c'è qua visto qualcosa di strano non c'è un cavolo va bene andiamo da questa parte ok da questa parte ah non c'è niente un altro di quei mostri dai mori ne lo so tutta tutta lo so me le sento addosso le lacerazioni ecco oh ciao ragazzi oh oh non sperare che la cavalleria ci rompa ok ragazzi c'è è morto aspettavamo è morto ok 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 amico andiamoci andiamoci ma questo siamo il siamo giù? si siamo giù dove eravamo prima? si mi sa che si ok allora che siamo andati a fare ad andare su? questo ci mi spiega perché siamo andati su ma io non non capisco perché ah si è questo no 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 qua è un altro no no qua è un altro posto no un altro posto c'è una porta chiusa che sei? chi è questo? ma dov'è l'amico mio? amico amico ti devi salvare il culo ma se tu non mi vai prender no vieni ma presso oh ok bravo calmati fuori fuori ma star di zombie colpisci colpisci bravo bravo sei bravo dove è andato quel non si apre? entriamo da qua ok oh si 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 il nostro bello fucilone andiamo da questa parte si apre? non si apre? di là, guarda che cosa si apre questa porta? ma non si apre questa porta? guarda qui si aspetta che salto ok ah si 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 c'è un morto vediamo il nostro fucile Granatole Granatole Qua c'è l'ascensore Che Pura No, non lo dire Non me lo dire Non voglio saperlo Che fa quello? Amico 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 Non lo dobbiamo salvare Resiste amico Amico Aspettami da salvarti Ma io ho paura Ma questo Non posso Andiamo a controllare la giù Vediamo cosa c'è Faccio presto Controllo qua Cosa c'è Tu senti qualcosa Se si togli Oh amico Ehi Ah ecco Vedo dove siamo Ricordi che abbiamo Ok andiamo 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 su Andiamo su Aiutare il nostro amico Veloce veloce Non so se è ancora lì Allora io direi di salvare Salva Salva No 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 Allora Ho paura E' ancora lì Allora L'unico modo E' saltare E prendere quella Scala Non so se è ancora lì E' ancora lì Molta Molta Come faccio A velocità Io Molta Molta Ma mori ammazzato Un'altra volta Cioè una volta solo Vi devo riuscire Ok calmati 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 Allora Saliamo e andiamo A sinistra È facile È facile È facile È facile È facile Non è come prima Si dovevi lanciato Allora Andiamo in qua Andiamo in là Saliamo e prendiamo A A Dove è? Dove è mi conosco? Amico Non mi dico che stai buttato Amico Ma dov'è la scala? Qua è la scala No si lo so La scala Andiamo a destra Ok Aspetta Aspetta Ci ho avuto calmo Dove? Aspetta che ci ho avuto calmo Ci ho avuto calmo Ok 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 Che faccio qua ora? Ah ah Ti spieghi Mi ha avuto la scala Ah scusa è vero Ma non c'è problema Quando c'è Oddio 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 Aspetta salvo Ho paura S'è buttato S'è buttato S'è caduto Salva Salva Ok Amico 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 Vai Vai Dai Meno male che Vabbè Lo hai già riprenduto da qua Ma che Va dai Questo gioco mi sta uccidendo Questo gioco Va Ok siamo morti quante volte? Questo gioco mi sta uccidendo Questo gioco mi sta uccidendo Questo gioco mi sta uccidendo No Siamo dei broccoli praticamente Non riusciamo A saltare Non ci credo veramente Ma Non è che devo schiacciare qualcosa Ho fatto Basta Questa non la calcolate Questa non la calcolate Questa non la calcolare Fa finta che non l'hai vista Fa finta che non l'hai vista Ok aspetta C'è praticamente appena cato Mi sento già la testa Che si spiaccica Io non riesco a saltare Concentrazione Vaffanculo No Ok ci vado deciso Deciso Vai al diavolo Vai al diavolo Io muoio Io muoio Io muoio Io questo gioco muoio Prendiamo un'altra cosa Dai Perché Oh 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 Apriamo il coso Apri Dai Apri 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 di giro Ah ecco Ah ecco cacca di buona 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 tutta carica, 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 carica ah cos'è? questo si apre, non si aprirà mai, bisogna entrare addentro allora qua ecco, sapevo che era antiproiettile questo non si aprirà manco ammazzato, dobbiamo trovare questo è il caso di Fire schiacciare qua, noi continuiamo a controllare LPC LPC LPC, non possiamo passare? no, è impossibile questa roba si rompe, si sposta si rompe, non si sposta se passiamo di lì, la regge la asana, secondo te che succede? si apre moriamo già minimo ammazzati ma non lo facciamo forse io direi di schiacciare qua forse dovevo entrare prima che si chiara forse dovevo entrare prima che si chiara ehm... ehm... che facciamo? da dove? tu dici dovevo entrare, vero? aspetta 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 schiacciare qua e entriamo, ok? ah allora cosa ho fatto? come si attiva? oh ah è effetto quello che abbiamo fatto è proprio inutile nene 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 quando siamo scemi nene 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 Aspetta Attiva la torretta Stronzo maledetto